Allora ragazzi, sarà quello del giorno 212, ricordati, sto per partire, isegno a fuorino, quindi su Francesco è Endori, adesso da quella strada uscirà, cioè c'era il polipolino, poi andiamo a Tlapa che partiamo a 2 e mezzo, destinazione Girona, questa è di Alex, questo è un sacco che viene nella pacienza, sapete il sacco per me non è quasi più qualcosa della barroccia, ma è più internoz, anche se voglio vedere tutti già, prima partita io non è sacco, però voglio vedere solo per tutti i colori che ci vogliono vedere, e come niente, facciamo vedere già un po' un po', troppo no, e come è il mio parlo, tutti i colori del sacro, Alessandro, Nico, Rene, Claudio, Angelo, Angelo, Marco, Mireo, Silvia, vabbè tutti, sono troppe per le cose, ecco un po' pazzo, Giovanni, Alessandro, Cristiano, Cristiano, Michele Lorango, vabbè lo carico il video, se no poi c'è troppo, e bisogna andarmi voi, ve lo carico su YouTube, adeuro.